bella a tutti ragazzi sono da mir come tornati su gameplay channel e su land of the vikings allora ragazzi quest'oggi ci proviamo questo titolo che gli sviluppatori mi hanno mandato in uscita proprio quest'oggi lo trovate per l'appunto su steam ed è ovviamente un city builder con tema vichinghi quindi ce lo proviamo allora dovrebbe esserci in fase di uscita anche la lingua italiana se non erro però in questa versione che mi hanno mandato gli sviluppatori è ancora in inglese comunque io ve lo mostro lo stesso allora qua possiamo scegliere ovviamente il nome del villaggio vabbè vediamo se ne troviamo uno drangar ma si va bene questo dai va bene così possiamo editare anche il nostro banner e questa è una cosa molto carina devo dire qua possiamo scegliere ovviamente la dimensione del simbolo quindi anche questa cosa ottima beh metterei questo sì sì assolutamente guardate figa la nave dietro così molto molto bella possiamo anche cambiare ovviamente il colore di sfondo ma io lo no vabbè lo terrei rosso assolutamente sì no il simbolo diciamo bianco e va bene così dai direi che va bene così facciamo star game giusto per vedere un attimino in che cosa consiste sembra piuttosto promettente io l'ho provato proprio dieci secondi diciamo solo per vedere giusto le impostazioni audio grafiche eccetera molto bello dal punto di vista grafico devo dire molto molto piacevole ci sono tutta una serie di mappe da scegliere non ve l'ho fatto vedere prima ma nel menu di creazione della partita ci sono varie mappe piccole medie grandi e ovviamente cambiano anche in base alla difficoltà adesso mi dovrebbe aver dato quella più piccola diciamo di default e anche quella un po più facile per quanto riguarda la raccolta di risorse e quant'altro sì esatto allora vabbè qua abbiamo ovviamente il tutorial qua ci spiega insomma che dobbiamo prendere gli alberi gatterare la stone costruire insomma fare tutte queste cose qua poi abbiamo qua tutta la parte di management qua abbiamo la diciamo il calendario del giorno ed ecco qua per l'appunto il nostro villaggetto qua abbiamo i nostri vichinghi che ci fanno vedere che ci fa vedere diciamo le varie statistiche quindi i bonus i malus le varie abilità che ha ci fa vedere la famiglia insomma tutto quanto quindi ottimo da quel punto di vista dunque qua ci dice gli obiettivi intanto dobbiamo dirgli di tagliare un po di alberi qua ci fa vedere che comparirà questo circolino verde noi andando vicino agli alberi ovviamente possiamo dirgli di raccogliere quindi diciamo di raccogliere questi e facciamo la stessa cosa con la roccia aspetta devo togliere questo e fare così perfetto così almeno questo l'abbiamo fatto ok poi dobbiamo assegnare un worker alla carpenteria quindi mettiamone vabbè mettiamo qua ci fa vedere tutta la lista 53 me va bene mettiamo questo ok e dobbiamo attivare diciamo aprire la bottega praticamente per iniziare a farli lavorare questo dai tronchi ci darà ovviamente le assi di legno quindi come al solito perfetto dobbiamo avere 3 wood 20 stone e 32 timber ok dobbiamo costruire il marketplace dobbiamo assegnare il builder e assegnare il marketer quindi penso aprire insomma il mercato va bene intanto vediamo loro che vanno a raccattare la pietra vedete graficamente molto carino devo dire molto molto piacevole ci sono animali sì che penetrano dentro la roccia va vabbè ok qualche qualche glicettino lo vediamo allora queste sono le loro case queste qua sono le loro case per adesso abbastanza schifose infatti viene fuori pure house quindi insomma casa abbastanza bruttina però vabbè poi le miglioreremo ovviamente col tempo qua abbiamo la long house quindi la struttura principale diciamo così del nostro villaggio abbiamo anche un festival dobbiamo aspettare sette giorni per un festival che poi sicuramente faremo perfetto allora intanto andiamo avanti a raccattare risorse dunque ma andiamo un po' avanti veloce il tempo dai così almeno se spicciano prima mazza ho tutti a raccattare roccia qua ok stanno tirando giù gli alberi vedete perfetto tirano giù gli alberi c'è ovviamente il ciclo giorno notte c'è il ciclo delle stagioni bisognerà poi vedere tutta la parte dedicata anche al discorso delle culture degli animali questo non so ancora come funzionerà poi lo vedremo molto carino il fatto che ci fa vedere i vari collegamenti che possiamo fare con le abitazioni insomma allora poi gli farei una stradina fino a qua ok poi andiamo a fare una strada che si collega questa perfetto poi gli facciamo magari una strada fino a qua e la colleghiamo a questa qua vediamo se riusciamo a farla più o meno dritta dal punto di vista estetico ok e poi andiamo a collegare anche queste due direi magari così ok e colleghiamo anche questa casettina qua perfetto dai così almeno tutte le nostre strutture sono collegate in teoria loro dovrebbero andare penso più veloci con le stradine immagino poi qua abbiamo il tasto ovviamente per demolire qua abbiamo invece tutto il menu di costruzione abbiamo un bel po di cose come si vede abbiamo le case diciamo migliorate la taverna l'erborista il totem quindi abbiamo un sacco di totem dedicate ovviamente a odino frey a thor insomma ce n'è per tutti i gusti poi abbiamo i vari storage wood stone marketplace warehouse eccetera abbiamo il food quindi pozzi abbiamo la gather hut che sarà quello che raccoglie diciamo le bacche e quant'altro abbiamo tutta la parte dedicata alle produzioni c'è un bel po di roba da quanto vedo poi abbiamo le cose diciamo del mare quindi il fish in at poi abbiamo anche i doc per quindi per costruire penso le barche quant'altro e ovviamente la parte militare per quanto riguarda i soldati quindi insomma di cose ce ne sono effettivamente parecchie allora io direi che possiamo mettere il marketplace adesso ci fa vedere ovviamente il tutorial su come posizionarlo e vabbè insomma abbastanza abbastanza semplice devo dire allora vediamo solo come no che cacchio ho fatto ecco l'ho già ho già tirato via allora dove che era food no storage ok marketplace allora allora quindi z il modo per ruotare un po strano dovete tenere premuto z e poi ruotare col mouse alla struttura allora marketplace lo metterei qua perché secondo me ci sta bene qua dai marketplace qua direi che ci sta bene builder ok possiamo assegnare builder ne metterei sicuramente due come minimo benissimo e direi di mandare bello veloce il tempo così almeno passa la notte guardate figata loro con con le torce in giro a fare cose magari gli direi di raccattare ancora qualche albero perfetto la stone devono ancora raccattarla comunque ne abbiamo 12 timber abbiamo zero wood per adesso 45 stone ok quindi dobbiamo lavorare ancora parecchio poi iniziano a portare vedete nel mezzo tutte le varie risorse perfetto lasciamo lì un attimino costruire e va bene allora poi volevo vedere un attimino la parte invece del manager allora beh qua abbiamo una finestra degli alert qua abbiamo ovviamente gli obiettivi gli eventuali messaggi che terrei a vista secondo me è meglio qua abbiamo i villager quindi possiamo vedere diciamo i gruppi familiari possiamo vedere la popolazione totale quindi abbiamo 22 persone di cui 18 sono adulti tre sono diciamo ragazzi e uno è un neonato poi abbiamo cos'è che totalmente a ok uomini donne insomma ci fa vedere proprio tutti i dettagli perfetto e poi il management qua abbiamo le risorse i lavori le barche e quant'altro a ok qua possiamo assegnare i vari lavoratori direttamente da questo pannellino che questa è una cosa sicuramente comoda e qua abbiamo ovviamente il riepilogo diciamo delle strutture cosa che sarebbe molto utile anche su far test frontier ad esempio ma che purtroppo non abbiamo ok qua abbiamo questo albero della vita che però non so bene a qua possiamo esplorare no che figata bella sta cosa ok e possiamo sbloccare tutte queste cose qua molto carina questa cosa ma mi chiede tre punti io ne ho cinque facciamo explore assolutamente sì così dovremmo aver sbloccato in teoria tutte queste cose sì e diciamo una sorta di scienza praticamente andando esplorare andiamo a migliorare l'abilità dei villager a scoprire nuove cose eccetera eccetera allora visto che abbiamo ancora due punti uno lo metterei qua e uno lo metterei qua dai così almeno siamo a posto e man mano sblocchiamo su questo albero perché effettivamente di sotto c'è l'albero tutte le varie abilità molto carina questa cosa molto molto carina dai così abbiamo dato anche un po di velocità aggiuntiva e dovremmo in teoria aver sbloccato le nuove cose dunque dovrei avere quindi nel food pesa esatto abbiamo i campi adesso è molto bello ok a questo è quello per le galline questo è il ranch molto a questo è per le mucche ok questo per le pecore e le capri insomma quelle che sono e ok l'hunting hat questo per cacciare va bene va bene va bene però noi non abbiamo cibo io adesso stavo guardando che siamo completamente senza cibo scusami un attimo mi sa che conviene un attivino fare qualcosa per il cibo perché se no ho idea che siamo siamo un po messi male medicina un plant non è che mi interessa molto mettiamo un hunting ok uno per la caccia io a sto punto lo metterei qua dietro lo metterei qua dietro produttività all'ottanta per cento qua il 40 no mettiamolo assolutamente qua dai mettiamolo qua e poi gli facciamo arrivare la stradina perfetto dai allora io bisogno però di mettere qualche builder in più posso dargli la priorità ok diamogli la priorità massima questo perché io mi sa che faccio bisogno di cibo sennò siamo messi siamo messi seriamente seriamente male ok 23 la felicità è l'ottanta per cento ok va bene va bene e qua vabbè i punti di difesa per adesso siamo a zero perché non abbiamo praticamente nulla va bene diamo la velocità massica così vediamo un attimo se riescono a darsi una mossa poi gli diciamo anche di andare a chiappare altri due alberelli mi sa che servono rifacciamo anche questi ok tanto qua la roccia alla roccia l'hanno finita va bene va bene va bene ma roccia ne abbiamo 50 per adesso per adesso direi che è più che sufficiente ma se impiegano a costruire però ok quando quasi finito dai dai che quando quasi finito di costruire intanto il nostro mercatozzo o perfetto perfetto allora mettiamogli magari un worker perfetto così almeno abbiamo fatto tutto il marketplace ce l'abbiamo dobbiamo decorare il villaggio va bene va beh questo mi interessa sinceramente meno qua andrà ovviamente a dare risorse pesce carne pane eccetera eccetera dobbiamo fare latte il gather ok ah comunque prende il frutti diciamo così però vabbè io intanto inizierei a a fare il il cacciatore per intanto poi eventualmente vediamo facciamo di tagliare altra altra legna e va bene vabbè vediamo anche magari di mettere questo allora mettiamo anche il gatterat tanto dobbiamo comunque fare in ogni caso come si dice dobbiamo fare in ogni caso anche questo per cui non è un problema allora qua mi dà la produttività al 100 per cento quindi lo metterei qua perfetto e dobbiamo fare un sacco di assi un sacco di roba dobbiamo fare ok allora qua con un tronco mi fa quattro assi va bene va bene chiedo un botto di risorse allora a vederlo così al momento non sembra facilissimo sinceramente allora diamo la priorità prima questo magari la togliamo questo qua ok facciamo il contrario diamo un attimo la priorità questo perché ho paura che se no qua col cibo sembra veramente messi male come detto non sembra facilissimo e di conseguenza bisognerà poi capire bisognerà poi capire un attimo insomma andando avanti come come si svilupperà il tutto allora intanto gli inizierei a fare una stradina che mi va fino a qua intanto la stradina serve come decorazione da quanto vedo perché mi ha già sbloccato diciamo così l'obiettivo della decorazione semplicemente con la stradina ah ma la paghiamo la strada mortacci sua ok la paghiamo va bene non l'avevo non ci avevo fatto caso questa cosa allora dammi non posso ecco tirar via sti cacchio di alberi che se no non mi fanno costruire la strada ok e facciamo fino a qua va bene allora vediamo un attimino se riescono a farmi sta cosa il fatto che io non ho più tronchi ma ma veramente ci vuole tutta questa legna cioè ragazzi allora a livello di legna mi chiede veramente una quantità mostruosa e spero che ci sia poi anche un un qualcosa di di forester c'è un qualcuno che risemini anche gli alberi perché se no è un bel problema se non bel problema perché poi abbiamo bisogno anche di legna da ardere tutto ma sti cavoli è un bel casino qua è un bel casino va bene questa è l'erba listat ma non ci interessa la decoration e allora io qua non vedo allora no vabbè il barley non mi interessa il windmill e questo produce il firewood alla carpenteria ce l'abbiamo e bisognerà vedere per le risorse perché qua mi chiede veramente una quantità di legna mostruosa mi chiede veramente la quantità di legna mostruosa anche per qua che sono 24 assi porca miseria cioè ho già disboscato praticamente tutto ragazzi ho già disboscato praticamente tutto ed è un bel casino allora facciamogli minare anche una pietra guardate qua che roba ho già veramente disboscato tutto perché non c'è il worker perché se non dato un worker non lo so a ok perché mi sa che è morto di già a faccio ok ne abbiamo già perso uno mi sa va beh allora mettiamo anche un cacciatore ok speriamo che inizino a raccattare un po di cibo però che iniziano a raccattare un po di cibo perché loro raccattano sia i frutti sia le erbe che poi ci servono ovviamente anche per curarci lui fa ovviamente pelle carne come è giusto che sia e va bene io quasi ne metterei due quasi ne metterei due sul cibo caccia e diciamo raccolta risorse perché se no è un bel casino guardate comunque che bella anche le decorazioni sopra le varie case qua ci sono gli scudi ovviamente col nostro stemma che sullo scudo è un po grandino però comunque molto molto bello va bene allora dovremmo decorare un po di più il nostro villaggio adesso sto guardando cosa c'era c'erano altri scudi ma io mettere il carrettino vuoto io un carrettino vuoto così qua in giro lo metterei perché è veramente veramente figo ma perché mi mette sì va bene un villager morto l'ho capito ma l'avevo l'avevo anche sostituito in teoria ok mettiamo un'altra decorazione mettiamo un carretto del legno magari qua dove c'è il la segheria insomma la carpenteria secondo me ci sta a paghiamo le decorazioni ok ok quindi paghiamo praticamente tutte le varie decorazioni che andiamo a mettere va bene c'è lo stand ma in stand qua dove c'è il mercato ci potrebbe anche stare effettivamente boh mettiamolo qua mettiamolo qua e va bene ok devo fare dieci decorazioni va bene poi adesso devo fare il warehouse assegnarlo ovviamente l'herbalist e assegnare il doctor va bene o adesso però iniziamo a avere cibo meno male meno male ragazzi perché sennò se non diventava seriamente un problema stava iniziando veramente a diventare un problema va bene allora quindi dobbiamo fare il warehouse cioè il nostro magazzino allora il magazzino lo metterei intanto così si mettiamo qua di fianco al mercato secondo me secondo me ci può stare vai mettiamolo così il magazzino e va bene e qua gli possiamo intanto anche andare a collegare la stradina che anch'essa vedo paghiamo tra l'altro quindi e qua i soldi mi stanno calando speriamo che poi che poi aumentino perché sennò è un bel casino se non bel casino va bene io qua adesso ce l'ho non capisco ok perché dovevo ricliccare sulla ok ok va bene vedete che lui intanto sta vendendo la frutta e la carne e in teoria i soldi poi mi dovrebbe dare a me è giusto credo vabbè adesso sono 64 poi vediamo se se effettivamente sarà così allora per fortuna il magazzino non richiede una quantità esagerata di risorse per fortuna è molto carino devo dire che mi sta piacendo graficamente come detto i dettagli sono molto curati e quindi è bella questa cosa è veramente bella questa cosa ci sono un sacco di decorazioni nelle varie case eccetera eccetera va bene qua abbiamo un altro dilemma ogni tanto capitano questi diciamo dilemmi che dobbiamo risolvere io in questo caso pago perché così perdo si perdo un po di soldi infatti adesso siamo a 14 però diciamo ci guadagni un po in felicità dei nostri villager vedo che alcune persone non hanno delle case quindi peraltro devo anche iniziare a fargli qualche casetta purtroppo non abbiamo granché gli farei questa sempre piccolina vediamo se posso metterla magari mi ci sta qua di fianco alle altre non sarebbe male si da mettiamola qua e gli facciamo poi la sua relativa stradina non appena sarà costruita e va bene adesso qua devono finirmi intanto il warehouse magari gli diamo la priorità così se spicciano prima e poi mi andranno a fare anche la casetta niente devo fargli tirarvi altri tronchi vedo che comunque gli alberi ricrescono abbastanza in fretta e vedete qua già stanno ricrescendo anche qua quindi per fortuna si loro tagliano ma non vanno a tirarvi anche i tronchi di conseguenza ricrescono abbastanza in fretta vedete che ci sono tutti gli alberelli piccoli quindi ok probabilmente non c'è il forester come di solito c'è in questa tipologia di giochi però c'è comunque una ricrescita vedete c'è una ricrescita insomma molto molto veloce degli alberi per cui vabbè da quel punto di vista ok perché mi stavo un attimino iniziando a preoccupare va bene dai cos'è che manca vi spicciate ah mancano ancora degli altri tronchi 14 dai ne mancano due ne abbiamo quattro adesso 60 timber le abbiamo e siamo a posto oh perfetto ce l'abbiamo qui adesso possiamo assegnare il worker e dovremmo essere a posto perfetto poi mi manca l'herbalist hub ovviamente e assegnare il doctor va bene ragazzi però facciamo una cosa facciamo una cosa io per il momento solo per il momento mi fermerei qui con questa diciamo così anteprima di questo nuovo titolo come detto sembra piuttosto bellino non ho visto per il momento grosse novità rispetto a titoli simili ma mi riservo ovviamente di fare degli approfondimenti perché ci sarà tutta la parte legata diciamo al mare quindi il fatto di poterci costruire le navi capire se possiamo spostarci proprio con tutto il villaggio tutto il discorso del combattimento che sarà da vedere bisognerà capire se subiremo attacchi perché al momento per quanto riguarda quanto meno la parte militare abbiamo solo il trading camp training camp scusatemi quindi il campo di allenamento bisognerà poi vedere se avremo appunto delle fence dei muri difensivi se verremo attaccati randomicamente insomma c'è ancora tantissimo da vedere quindi ovviamente non si può fare una valutazione adesso diciamo che come valutazione superficiale posso dire che il titolo almeno da un punto di vista tecnico mi sembra fatto piuttosto bene vedo attenzione anche per i dettagli le decorazioni delle case insomma ci sono alcune cose che sinceramente mi sono piaciute molto vediamo un attimino in base anche quello che mi direte voi nei commenti come sempre se farà appunto approfondimento miniserie serie quello che sarà quindi io vi invito come sempre a lasciare un sacco di like per intanto condividete commentate per l'appunto iscrivetevi al canale se non siete iscritti attivate la campanellina mi raccomando così non vi perdete nessun video che uscirà nei prossimi giorni e vi ricordo infine come sempre che se volete dare una mano al canale se volete dare un piccolo sostegno lo potete fare sia attraverso gli abbonamenti sul canale di youtube sia attraverso il pulsantino grazie al di sotto di ogni mio video detto questo ragazzi io vi ringrazio vi saluto e ci vi chiamo al prossimo replay ciao belli